Musica Grazie 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 nella conclusione, nella penalizzazione Grazie 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 Oh No 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 Sì No 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 grazie Grazie a tutti. 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 Vedi che adesso ho confermato tutto? Quando c'è tutto, tranquillamente. Io a sto operativo ho già proprio messo in stasi. Comunque non rischiava, cioè se vedi che sto facendo un'altra cosa, lascio aperto. È meglio non farlo una cosa che amo. Esatto. 3.6. 3.100. È già di 3.000 posti della boccia. È tutto campo. E poi, questo qua, questo qua, quando ho fatto questo campo, ho fatto una tuta con Serie A, per esempio, qui ha giocato, qui ha giocato, qui ha giocato quello di Dio. Non si è fatto. Un'altra cosa che è giocato. Non si è fatto più perché oggi per organizzare la forza. prima non c'era adesso ma non c'è ma non c'è ma non c'è no questi sono a notte questo è stato uno e la prima grazie 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 grazie